Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di infliggere danni ai giocatori nel campo di grano alla fattoria frenetica. Quindi la prima cosa da fare è naturalmente raggiungere la fattoria frenetica che si trova qui, quindi nella parte alta rispetto l'acolanguido, vicino l'autorità e tra Parco Pacifico e Foschi Fumaioli. Una volta che avete raggiunto la fattoria vi procurate una qualsiasi arma e vi assicurate di fare danno agli altri giocatori con una qualsiasi arma, però in un luogo specifico, ossia nel campo di grano. Il campo di grano è praticamente questo, ci sono diversi campi, vedete? Dovete assicurarvi di fare danno ai giocatori qui dentro, quindi vi procurate una qualsiasi arma, andate qui, qui c'è già un'arma, vedete, anche se è un cecchino, e appena arriva un giocatore gli fate danno fino a quando non completerete la sfida.